Resta a guardare Rinaldi, peccato, muro da parte di Vitelli, C-13. Lecchi, comoda la recessione di Ravenna. E c'è il gran muro di Marco Vitelli, questa volta sulla pipe di Vyapsov. Sua squadra che sta giocando veramente molto bene questa sera. Canella, Bjarnat, ancora un muro di Vitelli su Erati, questa volta sicuramente il timeout arriva, infatti così è. Così come nel secondo set, ma quando probabilmente ormai, come dire... Muro a tre, la difende Pinali, Bertoli percavuto, questa volta però il muro. Ma infatti il timeout di Angelo Lorenzetti, mentre noi rivediamo sul muro a tre. Difende Pinali, Bertoli proprio per l'opposto e in questo caso il muro di Vitelli presente sul terreno di gioco, 13-19.